buongiorno è arrivata la primavera ragazzi si inizia a navigare a manetta oggi un sole spettacolare non c'è nessuno al lago come al solito o l'esclusiva guardate qua che roba un panorama veramente spaziale c'è una leggera brezza da nord ma vi dico che sono già la bellezza di 8 gradi questa mattina unica pecca veramente un pochettino diciamo rattristante il fatto che comunque c'è pochissima acqua il lago è più basso di 120 centimetri quest'anno la sicilità si sta facendo veramente sentire speriamo che la prossima settimana arrivi un po di pioggia qui al nord ovest perché siamo veramente messi male per il resto ho già incontrato i nostri amici adesso vi lascio quale immagini ho incontrato i nostri due cigni preferiti in più oggi c'erano due veramente due speciali top guardate quale immagini buongiorno come stai un po timido oggi ci sono i tuoi amichetti da i cigni neri fantastico amici oggi abbiamo anche gli ospiti di colore nero due cigni neri unici in tutto il lago sono venuti a trovarli insieme a loro allora in questo momento stiamo già facendo 423 watt 13 ampere di potenza ma come vedete qua dal display stiamo producendo praticamente la corrente che ci serve giusto da sport starci e non sto consumando niente dalle batterie guardate qualche spot ragazzi incredibile veramente veramente bello se non siete mai stati al lago di viverone venite perché è un piccolo paradiso si va dritti come un righello grazie al pilota automatico che sta facendo il suo egregio lavoro rotta 55 gradi la si vede il castello di masino dietro le colline altro spot veramente top e qua dietro un pezzettino di monte rosa che purtroppo è un po spoglio dalla neve stanno veramente incredibile non c'è neve sulle alpi volevo farvi vedere anche come sto ricaricando questa garmin girb x con l'energia solare battery pack alimentato a pannelli solari anche lui quindi green nel green lo sto caricando un po' perché questo video l'ho girato un po' col telefono e un po' con questa quindi voglio ricaricare un po' la batteria ovviamente si continua a ricaricare un po' a caricare l'energia solare piatto con una tavola spaziale vai che ci scaga la marina aaa 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 700 vasto ragazzi mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia